bella a tutti ragazzi benvenuti su questo nuovo video di tutto ve lo ringraziavi per aver raggiunto i 200 iscritti al canale e oggi vi farò vedere un open pack dei pacchetti toti che ho accumulato con tanta fatica praticamente i pacchetti io non li compro perché uno non c'è soldi da buttare via per i toti perché ogni anno escono quindi ho accumulato i pacchetti con le sfide e tutto e sono riuscito a collezionarli tipo una quarantina di pacchetti quelli tutti blu per i toti ora i pacchetti li apriremo insieme sono sicuro di non trovare un cazzo perché se non compri quelli con i soldi veri non trovi mai niente ragazzi lasciate un like invece se ci credete che io trovi qualcosa speriamo e iniziamo a spacchettare bene partiamo con un pacchetto inutile tanto ne ho qua due quindi guardiamoli magari si sa mai che ho culo beh si inizia bene si inizia bene ma vaffanculo secondo pacchetto vediamo se saremo più fortunati attenzione bandierine argentino il difensore centrale in barcellona ma stiamo a continuare quando ho visto l'argentina ci ho creduto in un messi ma un bel cazzo di niente bene ora iniziamo guardate quanti cazzo hanno accumulati hanno accumulato una cifra ci ho messo un'eternità sono una palata questi pacchetti però chiaramente ci credo poco però ci dovevamo credere primo pacchetto attenzione luce bianca un bel cazzo di niente chi cazzo è colombia o quel cazzo di stato che è ma chi cazzo è a parte ragazzi che con la mia conoscenza dei calciatori qua io non so ma che cazzo sono non mi inseguo il calcio tutto qua ci gioco a fifa solo perché mi diverte attenzione secondo pacchetto dai 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 un bel cazzo di niente anche questo via apriamone un altro ma questa luce blu cazzo si mi danno un merda dai via un altro ancora oh luce blu luce blu luce blu luce blu vaffanculo niente ma neanche una bandierina fottuta cazzo è bello chi cazzo ma vaffanculo i ragazzi non so veramente cosa dire figa vanno a trovarne uno attenzione luce blu un bel cazzo cazzo attenzione 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 troveremo qualcosa no ovviamente io ho tutta sta fatica di merda per accumulare per trovare sta merda dai dai cambiamo pacchetto andiamo con un altro oh luce blu luce blu luce blu ci credo ci credo bella luce di merda ancora merda ma io ma io io non so veramente cosa dire ragazzi niente niente dai scorriamo 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 vediamo pacchetti oro pacchetti oro ragazzi ci credo non è vero non l'ho guardato neanche perché meglio di no tanto sarebbe salottato solo una delusione però ho visto un due calciatori quello mi ha portato culo vabbè affanculo c'è anche un bronzo vabbè scorriamo 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 vediamo due calciatori due calciatori apriamolo apriamolo sono sicuro una volta ho trovato gli orissi dentro quelli fantastico ragazzi sono meglio degli altri veramente bandierine bandierine cazzo germania esterno sinistro volusti nordmund sto cazzo di coglione che non so chi sia ma va bene così e vai uno decente cazzo ragazzi uno decente da mezz'ora che sto spacchettando ma non trovo un reato cazzo almeno uno decente in questa vita capita io la mia conoscenza del calcio chi cazzo è vedo 86 per me è forte peggiorno così dai apriamo il primo il primo magari quello che mi porta al culo ragazzi attenzione bandierine ma niente i portiere inter andanovic però io rischio di non aver rubato il cazzo di andanovic chi se ne frega ti faccio il giro dai sei stato fantastico va bene ciao niente niente dai apriamo in un altro via perché perché non trovo mai un cazzo di niente sono indeciso su cosa aprire dai 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 mi chiamai con le bandierine qua si vola che cazzo in azione è attaccante non so la squadra non ti conosco neanche a te attenzione figa altre bandierine non guarda mi giro all'ultimo mi giro all'ultimo chi è chi è chi è di sicuro non mi tu 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 chi cazzo è tu tu vabbè dai ragazzi figa 5 o 6 bandierine non mi è mai capitato adesso 70 pacchetti che ho accumulato tra oro argento bronzo tutte ste cagate qui dei cosi dai si vabbè dai ciao cioè ragazzi vi rendete conto quante bandierine ho trovato non mi è capitato così tante volte vai cazzo su 70 pacchetti però attenzione attenzione altre bandierine altre bandierine argentina tutti argentini trovo in questi cazzo di pacchetti iguain uno che conosco iguain iguain grazie a cazzo vai che cazzo senti dai coglione beh dai qualcuno di forte l'ho trovato uno che conosco perlomeno figa tutti argentini ho trovato quelle bandierine la maggior parte perlomeno però dai ragazzi sei bandierine ho trovato anche iguain è l'unico che mi ricordo altre bandierine cazzo siamo a sette argentina un altro argentino difensore centrale Manchester City non ti conosco però ragazzi cazzo ma che cazzo è sono argentini in questo gioco devo dire comunque che sta girando davvero bene bandierine turchia non so chi sia quindi vai via bellissimo via ultimi tre pacchetti ultimi tre pacchetti ultimi tre ci credo ancora ragazzi gli ultimi tre ci sarà di sicuro un totti in questi ultimi tre ci sarà di sicuro i bandierine mamma mia basta c'è qua ho conquistato il mondo con queste bandierine gecko ultimi due ultimi due pacchetti il totti è sempre più vicino attenzione lucina 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 ultimo pacchetto signori la mia ultima speranza la mia ultima speranza ti prego dammi una luce blu è andata ma chi ti ha messo come bandierina a te ma chi ti ha messo come bandierina a te bene ragazzi il video è concluso sono convinto che non sia stato poi così malissimo perché comunque qualche calciatore forte l'ho trovato qualche cosa di decente l'ho trovato mi dispiace che purtroppo non ho trovato un bel niente non ho trovato nessunissimo totti anche quest'anno ragazzi cosa dire deluso ma ci vediamo sul prossimo episodio